Bastava, invece ve la voglio proprio raccontare perché, allora, molti di voi forse erano a Sanremo nella selezione del due anni fa, c'era una ragazza che si chiamava Eleonora Crupi, appena avuto un bambino, e un giorno Niccolò Agliardi e Massimiliano Pelan mi hanno portato Bastava, cantata da Eleonora. Io ho detto, beh, grazie mille, cioè, è vero che Niccolò conosce molte cose mie private, però, cavolo, è la storia mia identica proprio, ok, la scelgo, la voglio, è mia, e vengo a sapere appunto che era una canzone che era stata mandata a Sanremo per poter andare nei giovani, e mi continuo a chiedere ancora oggi come sia possibile che Eleonora non sia andata avanti perché ha una voce meravigliosa e vi invito ad ascoltare anche la sua versione che penso si trovi su Youtube. In più, la canzone, secondo me, è veramente bellissima, ha una scrittura musicale di testo meravigliosa. Questa sarà un singolo di questo disco, quindi ci tengo molto a parlarvene, Anche se non è mai uscita, diciamo, a livello nazionale con un singolo o con un disco, comunque è una canzone che appartiene a due cantanti, e oggi la seconda sono io, ma sono ben contenta perché ho cambiato solo due parole, perché due mi davano fastidio, non parlavano di me, ma era pronta, era nel mio destino, e quindi devo ringraziare non solo Nicolò e Massimiliano, ma anche Eleonora Crupi che mi ha permesso, portandomi questa canzone, di essere anch'io un'interprete di questo brano. Ultima, manca...